Per me è motivo di grande soddisfazione aver riunito il centrodestra che ha ritenuto che io sia il candidato più idoneo a ricoprire la carica di sindaco per competenza, conoscenza del territorio. È una città difficile, siamo in piazza della stazione e mica a caso. Voglio entrare in comune se i ventimigliesi lo vorranno e mettere subito le mani ai dossier più scottanti della città. I problemi sono principalmente di carattere sovracomunale, forse è per questo che mi hanno individuato come candidato sindaco perché ho avuto e ho esperienze anche fuori dal comune di Ventimiglia. Il centrodestra si è unito, sono molto contento che tutti i partiti del centrodestra mi sosterranno. Devo dire anche che ci sono tante persone che non hanno tessere di partito, movimenti civici e quant'altro, che hanno già espresso la volontà di partecipare anche loro a questo progetto. Quindi una bella coalizione, rinnovata, ampia e non vedo l'ora di fare una bella campagna elettorale per spiegare cosa farò per la città di Ventimiglia. Perché i ventimigliesi dovrebbero votarla? Beh, dovrebbero votare me e la nostra coalizione proprio perché è veramente secondo noi l'unica alternativa e proposta credibile per la città di Ventimiglia. Tutto ciò nasce da un'esperienza, un'esperienza civica che arriva già dal 2014, che è proseguita nel 2019 e che oggi ha deciso di mettere da parte le ideologie e di confrontarsi, sedersi a un tavolo con gli amici del Partito Democratico. Con cui abbiamo condiviso tre anni di amministrazione in minoranza fino alla sua caduta di questo giugno e in seguito abbiamo deciso di sederci a un tavolo e confrontarci su punti programmatici. Cosa proponete? Noi proponiamo un'idea di città diversa da tutto ciò che è stato fino ad oggi. Proponiamo una città più pulita, più accogliente. Proponiamo soluzioni per i grossi problemi che l'attanagliano da tantissimi anni, soprattutto quello della sicurezza, dell'immigrazione, la viabilità, i parcheggi. Quindi stiamo costruendo un programma per la città e per i cittadini. Il 14 e il 15 maggio prossimo sono infatti in programma le nuove elezioni amministrative che in Liguria coinvolgeranno 23 comuni, sette dei quali in provincia di Savona. Alassio, Carca, Recengio, Ceriale, Laigueglia, Rialto e Sassello. Ad Alassio Marco Melgrati si ricandiderà inseguendo il poker con l'appoggio ultimo di movimenti centristi di ispirazione cristiana. Non si hanno ancora certezze ma c'è la possibilità che deve competere con una maxi e se vogliamo strana coalizione civica sotto la regia di Casella e Lucia Leone. Casella da sempre accostato alla sinistra insieme a Leone un passato con Forza Italia, Toti ora fratelli d'Italia. Manca ancora il nome del candidato sindaco ma sarebbe davvero una strana coppia. Anche a Carcare sarà corsa a due Alessandro Ferraro, medico di famiglia con un passato anche nella pubblica amministrazione con la sua insieme per Carcare, contro Rodolfo Mirri, attuale capogruppo di opposizione con Cambia Carcare di area centrosinistra. Montoggio al voto alle elezioni comunali 2023. Nel terzo e più piccolo comune del territorio genovese alle urne a maggio, dal 2013 è sindaco Faustino Mauro Fantoni, eletto con la lista civica Montoggio insieme e molto amato dalla cittadinanza. Lo farei se la legge me lo permettesse, ha detto Fantoni, parlando di un possibile terzo mandato. Proprio lui nel 2018 aveva battuto il rivale Antonello Barbieri con la lista 4 tessere del puzzle, ottenendo ben 469 voti, pari al 70,63% delle preferenze. Ma dopo otto anni, il primo cittadino uscente lascia il comune di poco più di 2.000 abitanti nelle mani dei prossimi candidati, anche se ancora non si conoscono i nomi. I candidati hanno infatti fino a un mese prima delle elezioni, quindi metà aprile, per presentare la loro lista. Il 14 e il 15 maggio i cittadini di Montoggio andranno alle urne. In quanto comune minore, quindi con meno di 15.000 abitanti, verrà eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti senza la possibilità del voto disgiunto. Poco più di 17.000 residenti, un'identità doppia come due, sono le sue baie incantate. Sestre Levante si appresta a rinnovare il sindaco il 14 e 15 maggio. Da un lato il volto patinato, i bar e i ristoranti, le centinaia di turisti e possessori di seconde case, soprattutto lombardi ed emiliani. Dall'altro la tradizione operai, ereditata dall'ex tubifera da fincantieri, che hanno sempre garantito la vittoria al centro-sinistra. Valentina Ghio, sindaco PD ma senza simboli nel secondo mandato, ha preso il volo per la segreteria regionale. In attesa della definizione certa di tutti i candidati, andiamo a scoprire che cosa chiede al futuro primo cittadino la categoria principale, quella legata al turismo. Quali sono le vostre richieste ai candidati sindaco per migliorare la situazione? I primi punti che vengono in mente, per esempio, sono l'ordine pubblico, quello che può essere la pulizia, quello che possono essere i servizi, diciamo in generale, derogazione, spazzatura e recupero e quant'altro. Sono temi ornamentali, diciamo che non sono ornamentali, perché comunque l'immagine del paese viene prima di tutto, specialmente per strutture che riguardano la ricettività o i servizi comunque bar ristorativi. Quindi prima di tutto andiamo su quelli. Dopodiché poi vedremo quelli che saranno i temi che snocceleremo. L'importante è far passare chiaramente un messaggio di totale apertura, di confronto con tutte le parti in causa. Altra cartolina, camogli, 5.000 residenti malcontati, se riesci nell'impresa di trovare un posteggio ne ammiri il fascino, un misto di crudità tipica dei pescatori liguri che rimagliano le reti nel porticciolo e di tutti gli accenti nordici che senti nei weekend da tutto esaurito nella bella stagione. Meta scelta per iniziative originali, come la caccia al tesoro del Politecnico di Milano, in cui si è imbattuto il nostro cameraman. Anche qui, in attesa di avere certezze sui nomi, andiamo prima sui temi. Camogli ha fame di parcheggi, quindi completare tutta l'area a scalo con i parcheggi, oppure trovare soluzioni per completare questo problema che assilla Camogli da sempre. Le altre priorità che noi anche commercialmente chiediamo è una maggiore collaborazione, una maggiore intesa con il mondo commerciale che riprende soprattutto gli spazi esterni, i deor, le autorizzazioni e la pulizia del paese. Queste sono le priorità per il mondo commerciale, perché è un bel biglietto da visita avere una camogli pulita e una camogli attiva. Saranno quattro i comuni al voto questa primavera nella provincia Spezzina, Sarzana, Portovenere, Carro e Maissana. A Portovenere il sindaco uscente Matteo Cozzani non ha ancora sciolto le riserve, ma potrebbe ricandidarsi. Pur essendo un piccolo comune di 3.100 residenti, non manca la concorrenza alla poltrona di primo cittadino. Già in campo la consigliera uscente dell'opposizione Francesca Sacconi, che ha incassato anche il consenso della rete civica provinciale. Ai nastri di partenza anche gli indipendenti Paolo Negro e Marco Vignudelli, che è già stato sindaco, non a Portovenere, ma a follo per ben 19 anni. In Val di Vara il voto pure il comune di Carro e il comune di Maissana, dove il primo cittadino Alberto Figaro si è dimesso per ragioni di salute. La partita più importante si gioca a Sarzana, a cui il centrodestra, che 5 anni fa strappa un feudo storico alla sinistra, si presenta compatto a sostegno della sindaca uscente Cristina Ponzanelli, su cui convergono Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Cambiamo, e due liste civiche. A contendere il palazzo comunale scende in campo anche l'ex prima cittadino e sessore regionale Renzo Guccinelli, appoggiato dal centro-sinistra con azione Italia Viva, PD, Socialisti, Avanti Insieme, Più Europa. Corrono per conto proprio i 5 Stelle, che puntano su Federica Giorgi, che godrà anche del sostegno di rifondazione comunista sinistra italiana e verdi. Non rinuncia alla corsa neppure il partito comunista italiano, con il segretario regionale della Liguria Matteo Bellegoni. La cittadina della Valdimagra è l'unica con possibilità di ballottaggio perché supera i 20.000 abitanti, seconda per consistenza numerica dopo la Spezia, con ben 16 liste in campo per 4 candidati sindaco. Saranno almeno 200 sarsanesi, dunque, a caccia di voti. Tanti cittadini però non hanno ancora scelto a chi dare la propria preferenza. Elezioni 2023, lei sa già chi votare? No, non so neanche se andrò a votare. Non sono indeciso. Visto che questa amministrazione nuova che c'è, questa amministrazione che c'è, ha fatto bene. Perciò ora poi deciderò, vedrò un po' com'è. Amministrative 2023 sa già per chi voterà? Io sì. E amministrative 2023 sa già per chi voterà? Allora, diciamo che il sindaco di ora sta facendo tante cose, diciamo, per Sarzana, quindi potrebbe essere una continuazione favorevole.